In questo numero del Salus Tg, in calo i medici del Servizio Sanitario Nazionale, ma aumenta il numero delle donne. Con la chirurgia ginecologica soft in ogni ospedale risparmiati 50.000 euro l'anno. La Corte dei Conti, Appropriatezza e Riorganizzazione della Rete Ospedaliera, scelta obbligata per l'SSN. Cala il numero dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, quasi 700 in meno dal 2010 al 2011. E' quanto emerge dall'analisi dei dati dell'Annuario Statistico Nazionale 2011, pubblicato online dal Ministero della Salute. Di tutto il personale dipendente dell'SSN, i medici odontoiatri nel 2011 risultano poco più di 106.000. L'anno precedente erano quasi 107.500. Di questi il 38,3% è costituito da donne, con un aumento sul totale dell'1,4% rispetto al 2010. Meno dolore, rischio minimo di traumi e complicanze, ricoveri e convalescenza più brevi. Sono i vantaggi della chirurgia ginecologica dolce, che senza bisturi attraverso il canale vaginale, permette di intervenire in modo mini-invasivo nella maggior parte delle patologie intime in rosa. Un approccio che permette inoltre al Servizio Sanitario Nazionale di risparmiare 50.000 euro l'anno per ogni ospedale, che a parità di intervento applichi la metodica transvaginale al posto della laparoscopia. A calcolare per la prima volta il risparmio della chirurgia ginecologica Ultrasoft è uno studio dell'Università Liuc di Castellanza, in provincia di Varese. L'appropriatezza in sanità? Una scelta obbligata per portare a coerenza i crescenti fabbisogni, gli obiettivi di riqualificazione della spesa e il miglioramento delle prestazioni. È la conclusione che emerge dal rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti, presentato a Roma. Secondo i giudici contabili, un elemento cardine di una strategia che punti a recuperare margini di manovra dal riassorbimento delle spese inappropriate è costituito dal processo di razionalizzazione delle reti ospedaliere.